Benvenuti, eccolo qua, la palestra è aperta, il Tempio è dietro di noi, ma la frase del giorno per iniziare questa bellissima puntata è di Gicoro Kano che dice che non è importante essere migliori di qualcun altro, ma essere migliori di ieri e noi nel nostro piccolo siamo migliori di ieri.